Siamo arrivati al fine settimana, oggi è il 26 giugno, buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di Fano TV, occhio ai giornali in diretta, ben ritrovati, allora partiamo subito con il Santo, le previsioni del tempo, poi diamo un'occhiata ai giornali che abbiamo selezionato per voi questa mattina, allora siamo ai Santi Giovanni e Paolo, il sole è sorto alle 5.28, tramonterà le 20.59, poi suggerirei di guardare quest'albe tramonto perché è sempre fermo lì, non so, va bene, comunque 20.59 sembra che si sia fermato. Allora adesso andiamo invece a vedere il tempo. Oggi andiamo su trebimeteo.com, weekend con il sole caldo prevalenti ma anche alcune insidie temporalesche che riguarderanno ovviamente come vedete dalla grafica il nord dell'Italia, noi che stiamo al centro invece godremo di sole e temperature elevate anche se questa mattina come ieri, insomma sono 20 gradi, un bel frescolino, questo fa bene anche per dormire la sera, quindi la notte è importante. Questa è la giornata di oggi, mattino, pomeriggio con un po' di velature, la sera e la giornata di domani, domenica 27, lo stesso, vedete le Marche completamente baciata dal sole e la conferma ci arriva direttamente dalla spiaggia dove noi abbiamo Nicolò che è il titolare dei bagni Maurizio, buongiorno, abbiamo un fermo immagine, qualche scatto, ma comunque riusciamo a vederti e soprattutto a godere di questa immagine come sempre molto rilassante. Sì, oggi è una giornata bellissima, non c'è foschia, tant'è che si vede anche il Monte Conero e sono convinto che la spiaggia si sarà piena perché non c'è manco l'umidità di oggi al mare, bellissimo. Bene, allora noi siamo arrivati alla fine di questo nostro collegamento, questo turno che finisce qua per te, io spero sia stata una bella esperienza, insomma un modo anche per salutare e farti conoscere anche dal nostro vasto, vastissimo pubblico televisivo. Grazie, ci fermiamo qui perché c'è un po' di scatti questa mattina, la linea fa un po' di storie, quindi grazie per questo contributo, buon lavoro, buona estate a tutti voi dei bagni Maurizio, appunto in Sassana. Grazie mille, grazie mille anche a voi. Buona giornata. Allora, parliamo invece adesso, andiamo a vedere il Corriere Adriatico edizione di Pesero, la variante Delta è tra noi, la variante Delta è arrivata, ma insomma questo era inevitabile, il genoma è stato sequenziato a torrette, i primi tre casi nelle Marche, tutte donne, a Senigallia è fermo, non erano vaccinate, il prof Tavio dice era solo questione di tempo, il sottosegretario Costa che ieri ha fatto visita ad Ancona, dice qui è stato fatto un gran lavoro, continuate così con le somministrazioni. A centro pagina il progetto esecutivo invece della ciclabile di Via Fratti a Pesero, avanti a stento. Poi c'è Amazon, il colosso dell'e-commerce, per Amazon all'interporto passo avanti, atti in comune. Un nuovo passo avanti, dunque amministrativamente si tratta del passaggio cruciale che avvia il giro di carte più importante dal quale dovranno scaturire tutti i permessi per far atterrare all'interporto di Iesi il gigante mondiale della distribuzione. Amazon appunto, nei giorni scorsi la richiesta di variante a costruire è stata presentata al comune di Iesi. A Pesero invece c'è notti in sicurezza, vigilanza privata, questa è la soluzione. Infermieri in fuga per carichi di lavoro e per i contratti a tempo, poi affano, adriatico a rischio, rabbia a metà origlia per l'ennesimo lutto, l'ennesimo incidente stradale. Andiamo sulla pagina di Pesero adesso del Carlino. Baby vandali scatenati al campus, un video lì in chioda durante le scorribande, identificati in 5 e 2 sono ragazze, i danni per 5 mila euro. A centro pagina, isole pedonali, ricorso al TAR. Viale Trieste, l'hotel Ambassador porta la protesta in tribunale. Botte per lo smalto, uno degli arrestati si difende, dice l'omofobia non c'entra. Dopo il TSO invece lo studente sarà sottoposto anche a perizia. Non voleva la mascherina in classe. Patto anti-caos, sempre dalla prima. Locali della Movida, incontro in comune a Pesero, più controlli dopo le due di notte. E poi abbaglia Flaminia, abbaglia nel senso di Cane. La spiaggia per Cane inverte il trend, vengono anche dal Romagna. Poi WL, Drell si giocherà l'ultima chance. L'Estone al terzo anno di contratto. Poi Smart Working a Fano per spacciare, finisce in manette. Vendeva cocaina dalla casa di Ponte Sasso, in cui era ai domiciliari, ma è stato scoperto. Allora, adesso parliamo un attimo, diamo un'occhiata a questa variante indiana, variante Delta, sequenziati tre casi a Fermo e Senigaglia. Era solo questione di tempo. Gli esperti in materia lo avevano già previsto con largo anticipo. Tra questi il professor Stefano Menzo, direttore del laboratorio di virologia degli ospedali riuniti di Torrette e docente di microbiologia alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università Politecnica delle Marche, che proprio ieri sulle pagine del Corriere Adriatico aveva parlato di un'alta probabilità che la variante indiana stesse già circolando nel nostro territorio in maniera asintomatica. Poi ieri è arrivata la prova del 9 dall'analisi dei tamponi ed è stato proprio il laboratorio dall'U diretto a sequenziare i primi tre casi di mutazione Delta nelle Marche. Si tratta di tre donne, compreglievi fatte il 22 e il 23 giugno, negli ospedali di Senigaglia e di Fermo. A Fermo i tamponi Delta sono stati poi individuati su due donne straniere. A Senigaglia su una donna di una famiglia milanese, composta dai genitori, figlio e nonna. Nessuna delle tre pazienti si era vaccinata. Ovviamente il Dipartimento si è tuffato nel tracciamento dei casi positivi e questa è la cosa più importante perché, come è successo anche l'anno scorso, ovviamente adesso che i casi sono diminuiti, quindi i positivi sono drasticamente diminuiti, è possibile anche fare quell'operazione che sarebbe importantissima da portare avanti anche in situazioni diverse, cioè il tracciamento e quindi andare a ritroso e contattare tutte le persone che sono state a contatto con questa famiglia, per esempio di Milano, per circoscrivere, arginare il contagio. Questo può essere fatto come il sequenziamento del virus, che andrebbe fatto molto più frequentemente, ma che poi non c'è mai tempo perché quando si è nell'emergenza il tempo di sequenziare, studiare bene, eccetera, eccetera, non c'è mai, ebbene adesso si può fare perché siamo diciamo in una situazione un po' più tranquilla. Sul fronte invece dei vaccini altre 10.000 dosi oggi in arrivo nelle Marche dopo le 80.000 di Pfizer di mercoledì. Abbiamo detto che anche il sottosegretario Costa in visita ad Ancona ieri ha fatto i complimenti alla Regione e quindi ha detto bene, andate avanti così. Ricorderete il giovane, qui andiamo sul resto del carino, il giovane fanese che a un certo punto alla quarta protesta in classe si era incatenato con un lucchetto della bicicletta al banco di scuola, aveva creato un po' di trambusto, la preside ha chiamato i carabinieri, il 118, da lì il trattamento sanitario obbligatorio, tutto il pandemonio che ne è uscito anche a livello nazionale, se ne sono occupati davvero tutti. Ebbene, adesso il Carlino questa mattina pubblica sulle pagine interne, l'edizione pesarese, questa notizia, il titolo, doppia accusa per lo studente no mask, che non voleva mettersi la mascherina. Venne sottoposto a TSO, il suo caso divenne nazionale, ma ora deve rispondere di minacce ai sanitari e interruzione di pubblico servizio. Allora, ci sono gli strascichi giudiziari di questa storia, ed è il ragazzo che deve rispondere appunto alla giustizia di questi due reati, le minacce ai sanitari, quelle avvenute secondo l'accusa all'interno del pronto soccorso di Fano, quando il giovane diede in escandescenza, e lì si era detto, dopo che aveva saputo, che sarebbe stato sottoposto a TSO. Lì è andato in escandescenza. Poi, secondo reato, l'interruzione di pubblico servizio, e questo ovviamente riguarda la scuola. Infatti, il diciottenne venne a creare nella sua classe, per la quarta volta, tutto questo trambusto, perché si legò al banco protestando contro l'obbligo di portare la mascherina in classe. Il fascicolo, ovviamente, è andato avanti d'ufficio, e in tribunale si è svolto l'incidente probatorio, e adesso la procura ha dato incarico ad un medico che dovrà verificare la capacità di intendere e di volere di questo ragazzo di 18 anni, sia al momento del fatto, sia in un eventuale processo in cui sarà chiamato a riferire appunto sui fatti come imputato. E adesso, invece, andiamo sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico, perché così come quella dell'altro giornale, si interessano questa mattina e vanno avanti sulla questione della sicurezza stradale a Metauriglia. Metauriglia è una frazione di Fano, che si trova a sud della città di Fano, dove purtroppo sulla stradale 16 si va con una certa velocità sostenuta in automobile e spesso è teatro di incidenti, anche mortali, così come è avvenuto nei giorni scorsi. Il titolo, basta con la carneficina, sale la rabbia a Metauriglia. Intanto alle 15.30 ci sarà il funerale di Franco Minestrini, appunto l'ennesima vittima dell'Adriatica. Oggi alle 15.30 nella chiesa di San Benedetto, lì a Metauriglia. Tra le possibili cause, scrive Osvaldo Scatassi sulle colonne del Corriere, tra le possibili cause dell'incidente non si esclude il colpo di sonno, che avrebbe accusato il conducente del furgoncino, che poi ha investito Silvestrini. Ora, il titolo invece del resto del carino. Più sicurezza o blocchiamo la nazionale? La rabbia dei residenti scossi dalla tragedia dei Minestrini, travolto e ucciso, parla dal Presidente del Comitato Noi Fano Sud, declassare la statale a comunali, limiti di velocità, poi rotatorie e marciapiedi. Ora, su questo fatto, chiaramente, io penso che la cosa più semplice, perché quando parliamo di pezzi di strada dove si va forte, eccetera, si pensa subito a dossi, rotatorie, tutte queste cose qua, che oltretutto sono anche costose. Ma se io fossi il sindaco, domani mattina farei una cosa. Farei installare lo stesso tutor che esiste sotto monte. Sotto monte per andare a Pesaro, c'è un punto in cui c'è una telecamera, registra il tuo passaggio e poi dopo un tot di metri o un chilometro c'è un'altra telecamera che registra il tuo passaggio. Fa la velocità media e una volta impostato a 50 km orari il problema è pressoché risolto. Quindi lo stesso tutor messo a metà origlia, né più né meno. È la prima cosa che farei se fossi domani mattina. Non è difficile, oltretutto, incassare anche dei soldi e quindi il problema lo risolvi. Sotto monte il problema è risolto. A 50 km orari, anzi ancora è 70. L'ANAS forse lo dovrà portare a 50, ma ormai siamo a fine giugno, ma probabilmente per luglio-agosto lo riporterà a 70. E spesso ti passano avanti con 50 i ciclisti, quelli che vanno forte. Quindi per dire come si va piano poi a quel livello. E ci vai perché poi ti arrivano le multe a casa e quando arrivano le multe a casa ne prendi una, ne prendi due, la terza ci pensi e il limite lo rispetti. Quindi rotatori, quello e quell'altro, secondo me non servono a niente. Quello che serve invece, al di là della cultura di ogni singolo c'è, ma questo è un altro discorso, come repressione il tutor che c'è sotto monte. Lo si applica a metà origlia e il problema lo hai risolto. Uno a ponte metauro e l'altro un po' più giù, a cima e fondo, è risolto tutto. L'altra pagina invece, Tari, ecco tutti gli sconti decisi dal Comune, bolletta più leggera per singole imprese grazie a una manovra da 1,8 milioni, 150 euro in media di risparmio per una famiglia di 4 persone, siamo sempre a Fano, e si parla di questi sconti in arrivo per le famiglie, circa 150 euro l'anno di media per un nucleo tipo di 4 persone e attività produttive. Quindi sconti nella bolletta del Tari. La Giunta di Fano ha dato il via libera ad una manovra da 1,8 milione euro, di cui 850 mila euro sono stati messi a disposizione dal Governo e 950 mila sono invece risorse del Comune. Chi può beneficiare di questi sconti? Ottenere il beneficio? Tutti coloro che sono in regola con il pagamento della Tari al 31 dicembre 2019, cioè prima della pandemia, scrive Anna Marchetti. Torniamo di nuovo a Pesero. Allora, a Pesero, anche qui, baby vandali che prendono di mira il campus scolastico. Il Preside dice in un mese hanno fatto 5 mila euro di danni. Sono stati identificati, ovviamente, perché poi anche questi baby vandali, forse per inesperienza, o forse perché non si rendono conto, ma essendo ormai tutto sotto controllo, tutto video sorvegliato, è facile anche essere ripresi, è facile anche essere identificati. E così ha fatto la Digos, che ha identificato appunto questo gruppetto composto da ragazzi minorenni addirittura sotto i 14 anni. Fanno parte della compagnia anche due ragazzi. Il dirigente di questo campus, Rossini, dice passano il tempo lanciando pietre contro finestre e lampade per rompere. Usano anche la mazza da baseball. Parliamo invece di politica. Lo fa anche il resto del Carlino questa mattina, approfittando di un sondaggio. Il centrodestra è avanti, lo è anche a livello nazionale, poi non si capisce perché in Italia funziona sempre in modo completamente diverso, cioè il centrodestra ha i numeri per governare, però governa sempre il centrosinistra. E questo è un fatto più unico che raro, ma è così. Ma a livello locale invece, qui vedete la foto di Gabriele Bonci, che è sindaco di Fossombrone, a Fossombrone dove si andrà a votare, il consenso del sondaggio vede il centrodestra superare il 50%, con la Lega primo partito al 29,4% e Fratelli d'Italia salito fino al 15,6%. Ma attenzione, Fratelli d'Italia era al 4,6% nelle regionali. Completa il quadro, la tenuta delle Forze d'Italia, con il 6,2% rispetto al 7% delle europee. Ora, il rafforzamento dei partiti di centrosinistra lascia ancora però un possibile bilanciamento, quindi un recupero, ma difficilmente ci sarà un accordo tra il sindaco uscente e un PD da cinque anni all'opposizione su tutta la linea. E in generale, uscendo adesso da Fossombrone, con il Partito Democratico, da mesi ormai partito senza guida e senza voce, anche le città maggiori di tradizione di sinistra, come Pesaro e Fano, potrebbero tra tre anni conoscere sconfitte anche pesanti. Senigallia, bar chiusi alle 21. Senigallia, sapete, ha un problema anche qui di vandali. La notte non c'è pace, soprattutto nelle zone del mare. Il sindaco è passato alle maniere forti e quindi ha imposto la chiusura. Alle 21, coprifuoco in tutta la spiaggia. Insomma, tutto questo per arginare il fenomeno appunto del vandalismo. Bar chiusi alle 21, bagnini infuriati, così ci costringono a licenziare. Polemica su questa ordinanza appunto del sindaco Livetti che concede poche deroghe. Un passo indietro, clamoroso, mentre gli albergatori per bocca di Manfredi dice, tornano gli stranieri e questo è buonsenso. Sempre a Senigallia, taglio del nastro per l'ex pescheria, il foro annonario ha un nuovo look, chiusa da vetrate, sarà uno spazio espositivo, inaugurato il camerino di Palazzetto Baviera. E questa era l'ultima pagina selezionata per voi della nostra rassegna stampa. Occhio ai giornali torna alle 1 di mattina alle 7, l'informazione alle 20 e 30 con 7 per occhio, tra poco alle 9 e 30 invece in diretta dal Vaticano, l'udienza alla Caritas Italiana per il 50esimo di fondazione. Sarà presente anche Papa Francesco, anche se il Papa arriverà intorno alle 11. Grazie per averci seguito, buon fine settimana a tutti.